Le primarie rimangono una via obbligata per il Partito Democratico. Il nome del prossimo candidato alla carica di governatore dovrà venire fuori dalla consultazione della base. Non esistono altre strade percorribili. Persino il tentativo di affidarsi al Papa Nero, ancora tutt'altro che abbandonato nei palazzi romani, si è rivelato inefficace alla punta dello stivale. Così, ormai da settimane, il principale partito italiano ha schierato Mario Oliverio e Gianluca Callipo, che se la vedranno con Gianni Speranza e con le figure messe in campo dal Movimento Diritti Civili di Franco Corbelli. Insomma, il metodo non è in discussione all'interno della compagine di Matteo Renzi, come ribadisce la stessa parlamentare Enza Bruno Bossio. Io credo che il centrosinistra alle primarie le debba fare per forza, perché una delibera che abbiamo preso all'unanimità nell'Assemblea regionale, quindi chi rappresenta il PD, cioè il segretario regionale, non può contravvenire a questa decisione democratica. Il ricorso alle primarie istituzionali, tuttavia, non è escluso. Per la deputata del Partito Democratico sarebbe una via comunque democratica per arrivare a definire il prossimo candidato alla presidenza della Regione. Il Partito Democratico è un'organizzazione democratica, non un'organizzazione padronale. Le primarie sono partite, poi certo, se si faranno le primarie per legge, come abbiamo deciso sempre nell'Assemblea, aderiremo anche alle primarie per legge. Ma se non si dovessero fare, il 21 settembre faremo le primarie del centrosinistra.